Ciao a tutti da Poderac, bentornati qui in un nuovo episodio dedicato ai modellini camion d'epoca di Agostini sono arrivati 6 modelli e ce n'è uno veramente croccante andremo a vedere man mano tutti i modellini usciti in questi giorni, in queste settimane tra poco saranno disponibili anche in edicola e ci stiamo avvicinando alla fine di questa collezione perché l'ultimo modello dovrebbe essere l'unità 61 in totale sono 67 a meno che facciano qualche proroga qui abbiamo l'unità numero 56, un Fiat 690 N1 e dovrebbe essere, vediamo se lo becchiamo, questo qui, esatto questo qui nasce praticamente negli anni 60 nuovo motore 177, cavalli, porta finalmente tre assi Fiat con doppio avantreno uscito l'anno prima con la motorizzazione giusta rimarrà in catalogo fino a quasi fine decennia diventando un potente N3, la versione più diffusa del 690 questo qui è un bel veicolo e ce l'ho da un bel po' di tempo in realtà solo che ci sono state le vacanze poi comunque di Agostini ha fatto un po' di ferie non ha continuato la collezione per tutto il periodo estivo per un po' ha sospeso, ha ripreso le spedizioni verso fine luglio e adesso ad Agosto ha inviato le ultime tre che andremo a vedere questo è con guida avanzata un veicolo senza fama, senza load carino, assolutamente apprezzato lo mettiamo da parte e proseguiamo con il nostro unboxing abbiamo il Fiat 540N 1957 uscita numero 57 mi piace di Di Agostini che ultimamente li sta spedendo con il Corriere non so se abbia visto tutte le nostre la mente il fatto che i pacchi vadano persi danneggiati ultimamente tutti i pacchi con il Corriere sempre post-italiano ma tracciato quindi sapete sempre quando vi arriva qui abbiamo un altro Re Coaro che l'abbiamo già visto sotto forma di altro camion anomali nel panorama Fiat anni 50 devono la loro nascita a una gara per gli eserciti Nato quindi questo qua deriva da qualche appalto Nato qualcuno nel gruppo scrive oh questi camion riciclati all'epoca li riciclavano i camion non sapevano che farne e poi li trasformavano in veicoli commerciali come in questo caso questo effettivamente ha uno stile di quei camion americani da guerra questa azienda se non fosse per la collezione di Agostini non la conoscevo e se non vado errato mi avete detto che era per l'acqua sbaglio comunque non è male abbiamo questo telone che non è in tessuto ovviamente in plastica il telaio del camion è in ferro in materiali metallici e anche lui non è affatto male mi piace molto molto particolare lo mettiamo da parte proseguiamo con il nostro unboxing l'America in formato ridotto infatti gli americani sapete fanno tutto in grande non so quanto potesse andare bene nei nostri mercati europei dato che le strade sono particolarmente strette Fiat C40 C50N si chiamava questo abbiamo poi l'uscita numero 58 questo mi ricorda uno dei camion che noi abbonati dovevamo ricevere e abbiamo ricevuto in omaggio quello dove c'era la legna che poi non era più legna furono sacchi e non era poi tanto simile all'immagine pubblicata sul sito invece questo si avvicina mi anticipo già che sono tutti i tronchi attaccati insieme non sono separati però anche lui non è affatto male abbiamo Fiarovanti Luigi autotrasporti c'è anche un numero di telefono molto particolare questo camion vediamo un po' la didascalia sapete che un pochino le leggo giusto per informarmi 1962 guida avanzata a destra l'erede del super orione dimentica tutto del predecessore torna a un motore a 6 cilindri elevata potenza specifica come lo era il titano degli anni 30 grazie al compressore volumetico arriva con la terza serie alla potenza record di 287 cavalli e pensare che adesso 287 cavalli neanche il fiorino a metà no è per dire però adesso i camion 770 cavalli raggiungono credo sì non lo so se c'è qualcosa sì oddio forse nel mondo dei trasporti speciali c'è qualcosa con qualche cavallo in più è incredibile come il mondo dei veicoli dei mezzi pesanti si è evoluto abbiamo qui lo Scania LV140 il secondo pacco che è arrivato a noi abbonati si tratta di un veicolo anche lui interessante Scania bisogna dire che da un punto di vista di design non è che fosse chissà che all'epoca 1969 adesso vi faccio vedere questo non è tanto un camion italiano ok è molto più estero vi faccio vedere questo è il nostro Scania alle origini del V8 Scania esteticamente all'epoca non era carino capisco il successo di Fiat Fiat secondo me aveva il suo OM aveva il suo il suo fascino che evoluzione hanno avuto le aziende noi non lo immaginiamo anche se in Italia abbiamo sempre sofferto un po' da un punto di vista di crisi aziendali non solo nel mondo delle auto ma proprio nei mondi dei camion dove in pratica il nostro governo ha sempre messo mani per cercare di non farle fallire queste aziende vediamo un po' cosa dicono riguardo a questo Scania in Italia è meno diffuso e conosciuto del suo erede 141 fatta di motori a 8 cilindri è stato comunque il primo modello importato dall'Ital Scandia Scandia autocarri presentato a Torino nel 1975 non è proprio vecchissimo non è proprio vecchissimo Stoscania adesso abbiamo quello che tutti aspettavate il Volvo FH12 Svezia 1993 ma l'FH12 mica era del 2002 uscita numero 60 l'FH12 questo qua che sto vedendo mica era del 2002 che tra l'altro mi è arrivato con uno specchietto rotto è l'unico veicolo che ho aperto prima di fare questo unboxing ed è quello con vedete mi è arrivato purtroppo con lo specchietto rotto però già di Agostini ecco da questo punto di vista è molto efficace se sei un abbonato vieni trattato con i guanti da un punto di vista di danni sui modelli da questo punto di vista di Agostini al di là di tutti i problemi che ha avuto all'inizio della serie che adesso li ha migliorati appunto io non so fino a fine serie se continuerà ad agire così ovvero pacco tracciato che ti arriva sempre perfetto però per quanto riguarda i danni ai modellini è sempre intervenuta e anche in maniera piuttosto rapida infatti ho fatto la segnalazione il giorno dopo già è arrivato allora non è il massimo della perfezione questo frigo però è un bel accontentino per tutti coloro che non hanno ricevuto giustamente il camion che abbiamo avuto noi in regalo decisamente più grande quello lì questo invece è sempre in scala 1.43 e secondo me andrà a ruba un bel Volvo FH12 infatti se Di Agostini dovesse fare una serie di camion tutti così inteso con buona probabilità farei quella collezione qualcuno mi ha scritto nel gruppo ma può dire che questo non è un camion d'epoca in realtà allora io pensavo fosse del 2002 ma qua dice addirittura 1993 però teniamo buona la mia data 2002 sono già 22 anni quindi per essere considerato d'epoca devono passare 20 anni quindi questo camion è un camion d'epoca e effettivamente questa serie se la vedete bene ha ancora spunti di camion che ancora vediamo in strada quindi insomma è stato veramente un successone questo camion peccato per lo specchietto rotto ma mi hanno detto che interverranno e risolveranno il problema infine abbiamo lui l'ultimo camion della collezione di oggi è OM Titano 6x2 1961 torniamo con i camion italiani finalmente e anche con l'azienda italiana infatti qui leggo che è un salumificio di Triester chissà se è ancora in servizio questo tipo di azienda e abbiamo sempre guida avanzata un OM molto molto bello ecco io di questi non so perché non mi dite mai sono riciclati che di questi OM boh penso tre quarti della collezione sono OM così o sbaglio poi secondo me quando finirà questa collezione penso dentro fine anno dovremo fare un recap di tutti i modellini e fare la nostra classifica finale questo qui comunque questo questo Volvo secondo me acquisisce un sacco di punti uno tra i migliori non il migliore per me il Parmalat è forse qualcos'altro mettere prima in classifica però insomma merita anche questo Volvo ecco insomma non è una collezione morta fino alla fine si fa amare i camion con terzo asse si diffondono a partire dalla metà degli anni 50 grazie alle potenze dei motori che riescono a raggiungere fino a 150 cavalli poi aveva una portata tra le 15 le 14 le 18 tonnellate e aveva un interesse anche nell'ambito militare poi è stato pensato per l'allestimento commerciale carino anche questa scritta frontale che non è affatto male insomma abbiamo visto un bel po' di camion finalmente questo dovrebbe essere il penultimo video della serie e probabilmente con l'ultimo video vedremo gli ultimi sei modellini se sono sempre sei dovrebbero essere sei fatemi sapere qual è il vostro modellino preferito e sono insomma molto curioso di vedere cosa ci regalerà come ultimi modelli e penso cercherà di recuperare insomma quei camion che sono arrivati al sud e al nord e viceversa penso si stemeranno un po' quelli per il resto top mi raccomando lasciate mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao